Ancora violenze nelle carceri campane. Nella giornata di ieri un detenuto del circuito di alta sicurezza della casa circondariale di Benevento ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. L'uomo è stato poi bloccato da altri due agenti intervenuti. Ne ha dato notizia Giuseppe Cimino, consigliere nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria. Secondo quanto ricostruito, il detenuto avrebbe aggredito nelle sale colloquio un ispettore e un assistente capo, entrambi ora all'ospedale civile di Benevento. Sono frequenti i casi di violenza all'interno delle carceri. La polizia penitenziaria in Campania continua ad essere vittima di tali atti, tra la totale indifferenza degli organi superiori e delle istituzioni. Ha così commentato Cimino, che chiede l'intervento delle istituzioni ministeriali e dipartimentali, al fine di porre in essere ogni possibile iniziativa di propria competenza, a tutela dell'incolumità del personale di polizia penitenziaria operante ed auspica che possa esserci finalmente una risoluzione. Anche Donato Capece, segretario generale del SAP, ha aggiunto che sotto gli occhi di tutti come servano interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario, intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. Ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa, ha proseguito, ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. I detenuti, alcuni quelli più aggressivi e violenti, evidentemente sono convinti non di essere in carcere e scontare una pena, ma in un albergo dove possono fare ciò che preferiscono.